apriamo questa bottiglia ata vediamo come non so che il gusto è bisognerebbe cioè vediamo che c'è scritto ramune bevanda alcolica cassata sciroppo di glucosa frittosa e zucchero con il resto di acidità e aromi ok ata c'è questa roba tutta scritta in giapponese una di sta roba me la so salvata col cacchio me la apro hata cosen happiness just for you ok allora qua c'è la plastichina e si toglie e se non ricordo male questa è la roba amata e se non ricordo male dovrei pressare forte sta roba è un memo che c'è scritto poi la roba amata prendo la coppetta che sarebbe questa la infilo per così premo bello forte vediamo se ce la faccio una mano minchia minchia ci vuole un botto di forza allora sono un idiota perché sta roba si può si spacca la spacchi quindi la infili qua è de boia de ecco qua ok abbiamo spinto la palla qua dentro e ora assoddiamola allora non so se è corretto ma è gazzosa allora è buonissima è buonissima lo consiglio se lo volete provare però costa 3 1 una bottiglia del genere almeno da noi poi non so da voi quanto può costare ma non so se è corretto ma